Spiegare, evidenziare, analizzare le interconnessioni tra goal, target e indicatori, come si vince da questo rapporto, può facilitare la comprensione delle dimensioni e della complessità dello sviluppo sostenibile? Questo sicuramente, lo sviluppo sostenibile vuol dire arrivare ad avere delle realtà, delle situazioni nelle quali si migliora, si cresce, ma si cresce nel rispetto di certe regole. Tutti questi indicatori, da tanti punti di vista, danno un po' il quadro di quelle che sono le dimensioni con le quali avviene il cambiamento e misurano le dimensioni del cambiamento in modo tale da capire quanto si sta avvicinando a questo tipo di obiettivi di crescita, ma di crescita che abbia le caratteristiche della sostenibilità.